benvenuti o bentornati a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica che credo ci è giunto alla quinta puntata se la memoria non mi inganna se non ricordo male e stiamo parlando del quinto comandamento scusate del primo comandamento la puntata è la quinta il comandamento è il primo abbiamo introdotto la volta scorsa con alcune considerazioni diciamo di carattere fondativo parlando del dovere di conoscere anzitutto del signore e della sua esistenza e delle piaghe che ci sono oggi purtroppo molto diffuse ecco del dell'ateismo e dell'indifferentismo quindi il fatto che si vive tranquillamente come se dio non ci fosse ritenuto una cosa non più necessaria fondamentalmente inutile ora oggi vorrei entrare un pochino più nel nel merito di questo comandamento per del primo diciamo così peccato formale contro il primo comandamento che è proprio l'idolatria e poi passare al lato diciamo così positivo che è il dovere di adorare il signore di servire il signore di rendere il culto che gli ha dovuto ed anche in particolare il dovere di accogliere ricevere quei mezzi di santificazione e di custodia crescita e crescita nella grazia che lui stesso ci ha donato cioè i sacramenti e la preghiera cioè non pregare per esempio un peccato contro il primo comandamento e come vedremo piano piano allora l'idolatria sappiamo ecco credo di averlo genito tutta la volta scorsa però facciamo che ripetita juvent idolatria è un termine che viene dal greco l'idolo l'idolo è idolon in greco abbiamo il buon platone che ci risveglia un pochino chi ricorda i miti platonici quindi le ombre la caverna insomma i simulacri no quindi l'idolo è un'apparenza oscura della verità quindi è un simulacro è un falso e che vorrebbe sostituire in qualche modo la realtà l'originale abbiamo visto la volta scorsa che gli atei non esistono ecco quindi ogni uomo ha un dio che a cui rende culto bisogna vedere chi è e avere questo coraggio come dire e questa onestà nei confronti anzitutto di noi stessi insomma poi oltre che di nostro signore insomma no quindi chiederci sinceramente chi è il mio dio i grandi idoli del mondo lo sappiamo dalla tradizione lo sappiamo anche dal discorso dalla non dal discorso dall'episodio evangelico delle tentazioni di gesù nel deserto che poi è la ripresa diciamo così è il compimento a rovescio in gesù delle tre grandi tentazioni di israele nel deserto no la manna e il cianno fame e vogliono tornare in egitto e gesù fa digiuno e il diavolo litello tenta dicendogli di che questa pietra diventi pane poi il vitello d'oro quindi voler vedere il dio e quindi l'idolatria quindi il vitello d'oro è proprio l'immagine dell'idolatria per antonomasia l'argomento di questa sera e e anche gesù l'ho detto no se prostrando ti mi adorerai ti darò tutte quante queste cose ecco tutti quanti i beni della terra insieme alla loro gloria questo è proprio l'argomento nostro no di questa sera vedremo e poi c'è la più sottile ecco massemeribba per il popolo di israele no adesso dio deve fare un miracolo perché se dio non fa un miracolo non lo facciamo più un passo avanti ci abbiamo sete e deve uscire l'acqua dalla roccia questa cosa gli è costato a mosè l'ingresso nella terra promessa perché ha battuto due volte sulla roccia anziché una fidandosi del signore e se ne è rimasto poverino senza poter entrare a causa di questo addirittura nella terra promessa questo è quanto ci racconta il pentateuco e questo ha il corrispettivo nella tentazione di gesù buttati dal tempio perché sta scritto che i tuoi angeli darà ordine no e gesù gli risponde non tentare il signore dio tuo cioè noi non dobbiamo mettere alla prova dio cioè vediamo se dio fa questa cosa quindi vediamo se fa la mia volontà e così forse esiste ma casomai è il contrario è dio che mette alla prova noi come ha fatto con abramo come ha fatto con tutti quanti i profeti no quindi il tema della ritornatria è abbastanza chiaro quali sono i grandi idoli del mondo ecco si possono semplificare ecco le tre s sesso soldi e successo da qui deriva anche il 666 tra l'altro sss le tre p piacere potere e possedere quindi come uno come uno preferisce no queste sono delle cose abbastanza potenti grosse perché sono quelle tra l'altro che vanno a costituire secondo quanto insegna santo ammaso da qui proprio la cosiddetta felicità terrena intramondana cioè una persona che ritiene che la felicità si possa raggiungere in questo mondo come godendoli tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili della vita i piaceri dei sensi di cui la russuria è il più grande anche se poi gli va a braccetto la gola oppure avendo tanti soldi e tanti beni che però sono funzionali alla vita di godimenti e di piaceri no perché i soldi e beni accumulati e che cosa li accumulo a fare li accumulo perché mi ci devo prendere tutti quanti gli sfizi e togliere tutte le altre soddisfazioni della vita altrimenti che ci faccio insomma no e poi il potere quello più tremendo quindi avere questa quello più demoniaco diciamo così questa sottile gioia di emergere quindi di distinguersi il potere è anche il successo la stessa cosa quindi di di stare al di sopra degli altri e avere un'autorità reale quindi con cui decidere sulle sorti del prossimo quindi questa questo brivido ecco questo insomma va bene oppure l'emergere quindi il distinguersi quindi l'essere un qualcuno ecco di 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 differente e e di distinto dal prossimo queste sono le tonate classiche ne possiamo parlare brevissimamente come faccio innanzitutto a capire che ho un idolo abbiamo visto già la volta scorsa l'idolo tiene il posto di Dio cioè convoglia i tuoi pensieri i tuoi desideri i tuoi sforzi la tua volontà io perdonatemi se sarò molto molto esplicito però è bene esserlo perché chi si trova incatenato dalla piovra di qualcuno di questi idoli dovesse capitare insomma che qualche ascoltatore ci si trovasse è bene che se ne liberi allora partiamo dal più facile l'idolatria della lussuria un lussurioso non pensa ad altro che a questo quindi un lussurioso diciamo così oggi dobbiamo specificare insomma un lussurioso che come dire ha un uomo che piacciono le donne e che vuole soddisfare tutte quante le sue brame con le donne non pensa ad altro quindi quando incontra una donna non incontra una persona non incontra come dire una persona in senso ampio incontra un potenziale oggetto di piacere quasi certamente quando lo incontra comincia a fantasticare comincia a pensare come sarà come non sarà come se durla come fare d'accordo quindi non ci vuole tanta 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 scienza infusa insomma per 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 distinguere questo questo brutto idolo e viceversa e anche quando si avessero diciamo manifestazioni diciamo della della sessualità oggi molto molto diffuse diciamo così chiamiamole volendo insomma fare un po' di come dire ecco sana ironia speriamo insomma alternative o anche estreme insomma no? c'è di tutto e di più oggi una persona che c'ha un idolo a quello pensa c'ha il chiodo fisso come 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 si dice secondo i soldi i soldi sono una cosa pazzesca e questo è uno di quelli a cui d'accordo magari per grazia di dio si spera insomma che dai tentacoli della della lussuria ci si liberi insomma no? anche se sono variegati sono terribili i soldi sono una bestia bruttissima proprio brutta 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 i soldi generalmente allora cioè cosa succede quando uno è sotto la schiavitù del demone è dell'idolo della dell'avarizia quindi del possedere dell'avere dei soldi allora numero uno sta a pensare altro che a quello e si vede in tantissime manifestazioni insomma della della personalità e da cosa si capisce quello è un idolo uno c'è la tendenza ad accumulare sempre sempre di più cioè far soldi 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 comunarli e secondo spenderli solo per sé quando si spendono quando una persona pensa troppo a questa cosa qui quindi gli sembra che non gli bastino mai oppure li spende solo per sé 99,9% anche se è difficile quasi nessuno ammette di essere idolatra del denaro nemmeno quelli che lo sono padesemente anche perché ci sono tutta una serie di meccanismi psicologici adesso io non vorrei troppo dilatare il campo di applicazione di questa catechesi l'avaro l'avaro non ti dirà mai se tu gli fai notare qualcosa non ti dirà che è avaro ti dirà che è parsimonioso cioè che i soldi non si devono sperperare che bisogna essere oculati che bisogna risparmiare non bisogna averci le mani bugate e tutte queste cose qui diceva non fare l'emosina eh no ma io non lo posso fare perché se poi se mi sento male ho bisogno dell'ospedale e poi ho i figli ho due doveri con i figli a destra e a sinistra tutte queste cose qui no? ecco quindi se ci sono queste due cose tendenza ad accumularli e a spenderli solo per sé o quando proprio c'è l'avarizia l'avarizia a spendere il meno possibile perché l'avaro proprio in senso stretto è paperon dei paperoni d'accordo? quindi non è quello che c'è soldi e li spende solo per sé non è quello che li accumula e manco se li spende perché c'è paura che finiscono il terzo è il successo quindi oppure il potere terribile questo qui in nome del potere insomma cioè sono state fatte cose orribili insomma a tutti in tutti i centri di potere esistenti e immaginabili Gesù questo è stato severissimo anche nella sua chiesa era inevitabile che ci fosse l'argomento potere perché essendo una comunità umana deve per forza essere governata ma cosa disse Gesù degli apostoli state attenti che i capi delle nozioni le dominano esercitano il potere quindi aspirano gongolano gli piace dare ordine ma troppo non deve essere così cioè quello che dovete desiderare è farvi non padroni ma servi se io poi vi chiamerò ad essere padroni fatelo con lo spirito di servi quindi siamo proprio agli antipodi allora certamente per persone che non sono magari coinvolte non lo so in politica oppure che non sono membri della gerarchia insomma perché ci distruttano il problema degli arrampicatori insomma del carrierismo no anche qui non è tanto difficile insomma un chierico che sia un carrierista o un arrampicatore cerca di stare sempre in contatto insomma con gli ambienti tipici insomma di certe situazioni con i giri di Roma insomma tutte queste cose qui insomma che io non li conosco per sentito dire insomma lontano anni luce insomma da questi da questi orizzonti però purtroppo pare che ci siano quello è un idolo vero e proprio anche perché chi purtroppo arriverà ad occupare posti di autorità con questo cuore con questo spirito quindi perché ha l'idolo del potere farà un sacco di danni farà un sacco di male purtroppo disgraziati quelli che saranno che gli capitano di essere sottoposti alla loro autorità allora questi sono diciamo gli idoli classici allora come ci si libera da da queste cose perché da queste cose occorre liberarsi allora per liberarsi dalla lussuria chi vuole liberarsi da questo idolo deve fare tre cose tre numero uno risolversi fermamente di tagliare con queste cose e su questo giova una buona formazione cattolica noi dobbiamo ricordare ne parleremo diffusamente quando arriviamo al sesto comandamento durante questo ci torneremo insomma che la chiesa ha una dottrina chiarissima riguardo la sessualità umana che si sintetizza dato che adesso non possiamo approfondire la sessualità umana è un capitolo dell'esistenza dell'uomo che per un figlio di dio si apre solo a seguito non prima e non fuori della celebrazione di un sacramento che si chiama matrimonio come forma non come dire brutale e violenta di ricerca del piacere ma come strumento certamente segnato anche da questa realtà che coinvolge l'uomo che è appunto la cosiddetta libidine ma vissuta dentro un dialogo d'amore che ne rispetti il fine a cui questa realtà è attualmente ordinata che è la vita fuori di questo orizzonte un figlio di dio deve mettersi in testa che questa cosa è come se non esistesse ok perché se non si è ben formati su questo e si apre qualche cioè la prima cosa la lussuola è un vizio violento ed è un vizio attraentissimo per cui non si può prendere di petto questo idolo con una mezza volontà la volontà deve essere ferma e risoluta secondo la volontà non può farcela perché questa è una bestia feroce il diavolo ci tiene in scacco il mondo insomma la Madonna Fatima ha detto che con questi peccati che popolano l'inferno e che tutti i dannati hanno anche questo peccato alcuni solo questo altri anche questo ma questo ce l'hanno tutti d'accordo quindi ci vuole la grazia di Dio ci vuole la vita di grazia ci vuole la preghiera e ci vogliono i sacramenti e implorare da Dio la grazia della purezza e della castità che sono per tutti d'accordo anche per chi è sposato c'è la purezza e la castità non nell'esercizio della continenza ma c'è anche per loro come a suo tempo vedremo e terzo però ci vuole anche la ferma fuga dalle occasioni che è un corollario della ferma volontà di non peccare io non mi posso mettere nell'occasione siamo concreti facciamo un pochino di esempi se io so che non sono capace di navigare su internet senza andare a cliccare il sito piccante o proibito che devo fa? ci sono vari strumenti diciamo così di combattimento no? metto il computer per esempio in un luogo dove ci sono altre persone dentro casa dove c'è se sono un adulto mia moglie se sono un ragazzo mio padre mia madre in modo tale che mi aiuto quindi fuggo l'occasione perché è chiaro che se c'è il computer in camera mia con la porta chiusa e io non riesco ancora a controllare questa realtà non c'è il dominio quasi certamente andrò a cadere dove non devo cadere lo stesso faccio qualche esempio se ne sarebbero infiniti non sono capace di controllare quello che vedo in televisione specialmente dopo una cert'ora comincio adesso io non sto parlando di cose di quando ero giovane io perché io non so cosa fanno in televisione la sera lo dico francissimamente insomma so di alcune schifezze che qualche volta mi capitavo di vedere qualche anno dietro che addirittura le fanno in prima serata quindi una volta tra tanti tanti anni fa quando eravamo giovani a una cert'ora si dice anche tra amici c'erano i programmini insomma se giravi in giro per qualche canale c'era qualche spettacolino non proprio santo ecco allora che succedeva che c'era qualcuno che non era capace di controllare il telecomando il giro vagava e inevitabilmente poi commetteva qualche peccato bene se tu dopo una cert'ora non sei in grado lo stesso la televisione si spegne dopo una cert'ora punto e basta perché se l'accendi e ancora non sei in grado sicuramente peccherai d'accordo questo tanto per fare qualche esempio come ci si libera dalla schiavitù dei soldi oh questo è dalla schiavitù dei soldi ci si libera in un modo molto molto semplice fare elemosine fare elemosine fare elemosine dare dare e dare qui capisco insomma che chi c'ha la famiglia chi c'ha i figli eccetera eccetera no però allora in coscienza davanti a Dio cioè noi dobbiamo essere cristianamente formati e stare attenti a non ergere idoli a mammona nel nostro cuore ogni situazione va valutata evidentemente caso per caso perché c'è la famiglia dei cinque figli che campano con 1200 euro al mese liberamente ci sarà la falobola della vedova presumibilmente no cioè se un papà di famiglia del genere mette due euro dentro che ne so l'acquesto che fa il parroco con la domenica in chiesa è un'enormità se sono in sette a campare con 1200 euro capite ecco io ho sempre suggerito anche a chi è povero di fare l'elemosina perché c'è l'obolo della vedova nel Vangelo cioè non conta quanto è chiaro che chi ha grosse risorse veda in coscienza davanti a Dio insomma che cosa io suggerisco sempre suggerisco come dire suggerisco non sono lacci d'accordo di confrontarsi seriamente con questo problema la parabola evangelica che una delle più difficili da capire quella dell'amministratore disonesto quando Gesù dice procurate gli amici con la disonesta ricchezza dice fate un po' delle mosine d'accordo fate siate capaci almeno su quello di essere larghi d'accordo perché se cominciate a imparare a fare questo grande sacrificio devo spogliarvi di qualcosa e poi vi si erano dati i beni più grandi d'accordo perché la logica del cielo è che i beni vengono dati perché circolino capite non perché cioè i beni materiali ma anche i beni spirituali se uno ha ricevuto dei doni da parte del Signore perché li ha ricevuti perché li mette a servizio del prossimo non perché se li trattenga per sé leggi la parabola dei talenti che credo se non sbaglio mi pare che proprio la settimana prossima sarà oggetto di attenzione adesso mi ricordo se forse sì adesso non non mi ricordo bene vabbè o quella o probabilmente sì e come ci si libera dalla schiavitù del potere dalla schiavitù del potere ci si libera non andando a cercare assolutamente per nessun motivo posti di responsabilità d'accordo non aspirando a cose di questo genere è chiaro che se il nostro Signore ti chiede o ti chiederà una cosa di questo genere con estrema umiltà mettiti in condizione ma sapete una volta quando veniva eletto il Papa mi l'ho letto da qualche parte si andava nella stanza delle lacrime non so se lo fanno ancora perché noi pensiamo al Papa cioè il Papa oggi è pure la festa del Papa oggi il 9 di novembre la cattedra di San Pietro il Papa è la persona che davanti a Dio avrà il giudizio più severo di tutti Gesù ha detto nel Vangelo a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più è vero che è l'autorità più grande in assoluto che esista perché il Papa come dire non può essere toccato e giudicato in questo mondo da nessuno da Dio solo adesso la gente come dire i cosiddetti laici hanno molto ridotto la figura del pontefice insomma eccetera eccetera non sono stati laici tutto quello che facciamo ma stati laici o stati non laici non esiste sul pianeta Terra un'autorità più grande di quella del sommo pontefice della Chiesa Cattolica capito quindi c'era la stanza delle lacrime per dire stati attento tu che sei stata letta e se vava piangi perché Dio ti ha messo una croce sulle spalle grossa una tonnellata e di questa grandissima autorità che ti dà sappi che questo comporta delle grandissime responsabilità e sappi che Dio ti chiederà conto severo di quello che farai da oggi in poi siccome un tempo c'erano anche delle forme diciamo esteriori anche come dire di decoro pontificio diciamo un po' un po' forti no? tipo quando c'era la sedia gestatoria e tutte queste cose qui non mi ricordo adesso non vorrei essere impreciso però vado un po' a memoria ma credo proprio che quando usciva il Papa la prima volta in pubblico questa sedia gestatoria c'era qualcuno che strappava dei pezzetti di pagine e li bruciava all'avanti cioè per dire la gloria del mondo è fatua è come questa carta che si brucia non ti attaccare a queste cose cioè queste cose sono espressione della dignità che tu rivesti e che non è tua in quanto vicario di Cristo cioè ma sappi che quello che devi fare è soltanto abbracciarti in una croce che pesa una tonnellata d'accordo? perché il nostro Signore non ti ha messo qui per fare come dire il sovrano d'accordo per darti alla bella vita ma ti ha messo qui per essere il servo di tutti quindi per combattere il diavolo in prima linea ecco per difendere il greggio per per custodire la verità anche a costo del sangue anche a costo della vita anche a costo di essere impopolare andare contro tutti quanti cioè queste sono tutte tante cose che chi si va dice ne sono stati 266 insomma no certamente ogni pontefice eletto farà queste considerazioni spero che le faccia insomma perché anche noi poveri preti insomma nel nostro piccolo dobbiamo fare considerazioni analoghe no quindi questa perché ripeto anche nella chiesa c'è purtroppo purtroppo per necessità l'autorità e il potere chiamiamolo in questo modo moltissime espressioni nella chiesa non ci dovrebbe essere il potere ci dovrebbe essere il servizio però c'è anche l'autorità che in certe circostanze deve essere esercitata no però ecco nel cuore per essere liberi perché non è cioè non è escluso cioè non è che una persona siccome sta dentro la chiesa è ipso facto libero dall'idolo del potere ma non è vero per niente d'accordo non è vero per niente carrierismi e nepotismi abbiamo la storia insomma anche oltre la storia antica oltre che la storia recente purtroppo non voglio non voglio non amo parlare ecco né tirare fuori tante tante ferite no ma possiamo insomma presumere che purtroppo qualche ministro della chiesa lo dico con le lacrime agli occhi con un dolore inscinito nel cuore pare che non sia stato esente dal demone della russuria e anche insomma a volte in manifestazioni ecco che stendiamoci un velo pietoso certamente senza giudicare mai le persone perché nemmeno i criminali devono essere giudicati da noi nelle loro intenzioni fermo restando che i fatti che hanno fatto devono essere giudicati come puniti quindi però ecco queste tre bestie ci gironzolano intorno a tutti quanti e nessuno può presumere di esserne esente San Paolo diceva giustamente che crede di stare in piedi vadi di non cadere ok poi ci sono io volevo spendere una parola delle forme come dire raffinate meno grezze meno materiali diciamo così di idolatria mi riferisco in modo particolare qui perché gli uomini purtroppo hanno proprio questa cosa il vitello d'oro di Israele è la testimonianza che Dio vuole essere adorato da noi ma Dio noi non lo vediamo non lo vediamo l'uomo ha bisogno di attaccarsi a qualcosa di tangibile non lo deve fare lo deve mortificare questo bisogno ma questo bisogno riemerge in continuazione allora se non c'è qualche idolo del mondo ci può essere qualche idolo raffinato anche spirituale allora quali sono sono per esempio le idolatrie e qui delle persone spirituali addirittura ahimè dei santi cosa che ha portato evidentemente uscendo fuori poi dalla verità perché quando c'è qualche eresia generalmente l'eresia si configura sempre si configura spesso come reazione estrema a qualche situazione problematica che c'è in atto quindi l'eresia dà una soluzione sbagliata estrema ma quell'estremo ti dice che un problema e qualche cosa da rettificare c'era sappiamo che in ambito protestante niente santi niente madonna si adora soltanto Gesù Cristo può essere successo nel corso della storia che si sia come dire come dire perso il giusto rapporto che si deve avere sia con il culto dei santi sia con l'iperculto che si deve dare alla madonna dove è sempre da mantenere un grandissimo equilibrio cioè noi veneriamo i santi certamente ma il santo non ha non è stato tutto quello che è perché è stato un grande superman certo ci ha messo la buona volontà ma il santo è colui nel quale rifugono in maniera particolare le grandi opere di Dio quindi come dire venerare un santo è glorificare l'opera che Dio ha compiuto in questo fratello in questa sorella certamente lui ha cooperato con l'azione della grazia ha fatto tutte queste cose ma non è a lui che bisogna guardare o peggio ancora attaccarsi come punto di riferimento io raccontavo tante volte la mia esperienza personale per esempio un dottore della chiesa o un grande santo anche se è un grande dottore o un grande santo se uno fa attenzione per esempio non è infallibile prendiamo il grande sant'ommaso d'aquino d'accordo il grande sant'ommaso d'aquino era grande ed è grande per quanto mi riguarda tuttora è un maestro indiscusso d'accordo è stato un faro io sto scherzando dico se ci fossero stati compiute le tempi del concilio di trento tante cose che sono state scritte nel concilio di trento avrebbero fatto copia e incolla dalle opere di sant'ommaso d'aquino perché di fatto non hanno fatto copia e incolla le hanno riscritte a penna come si faceva allora ma hanno riscritto esattamente le stesse cose ma con grande sant'ommaso d'aquino su alcuni aspetti ha avuto una visione non perfettamente consola per esempio sull'immacolata concezione per esempio sant'ommaso d'aquino pensa che il limbo esista cosa già discutibile ma pensa pure che il limbo sia eterno con tutto cioè io non sono manco una virgola io per esempio penso che il limbo esista ma non penso che sia eterno d'accordo per cui perché mi sembrerebbe veramente una cosa assurda che come dire una persona che una una creatura un'anima che contrae solo la macchia d'origine che certamente priva della grazia della possibilità di vedere Dio si ripermanga in questa situazione senza colpa personale per tutta l'eternità a me personalmente è una cosa di questo genere proprio ripugna d'accordo quindi credo che esista non credo che non esista d'accordo anche se questo è argomento libero però non credo che sia eterno sant'ommaso d'aquino io lo ricordo molto bene afferma che il limbo esiste e che il limbo è eterno d'accordo per dire allora perché sto dicendo tante queste cose perché quando nostro signore ci manda una luce un faro un suo ministro un suo servo non bisogna per nessun motivo attaccarsi a lui o idolatrarlo chiunque esso sia guardate che parlo a quasi 50 anni insomma di queste cose avendole dolorosamente tante volte constatati cioè San Giovanni Battista che quando gli vanno a dire qualcosa comincia a dire io non sono il Cristo 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 vedete che lo dice perché continua perché tutti quanti si pensavano che fosse lui io sono l'amico dello sposo io devo scomparire lui deve crescere a questo vale sia per gli idolatri sono le persone che idolatrano appunto diciamo così le figure spirituali ma vale anche per gli idolatrati e qui mi riferisco insomma anche a confratelli sacerdoti religiosi padri spirituali suore fondatori di movimenti di congregazione allora uno non è scemo d'accordo nel senso che si accorge se qualcuno cioè ti sta troppo mettendo sul piedistallo pende dalle tue labbra come dire cioè allora questo qui è una forma come dire di sottile suddola di gratificazione dell'ego tu queste cose qui non le devi permettere per nessun motivo è vero che molti le fanno ma è anche vero che quando ci si accorge di quei santi veri quando vedevano certe scene diventavano delle belve diventavano d'accordo si arrabbiavano parecchio perché questa cosa è una cosa che offende grandemente il signore anche se magari chi lo fa non se ne rende conto oltre che una grande mancanza di rispetto verso il santo è anche una grandissima offesa verso il signore attenzione a queste forme di doratria d'accordo perché queste sono più sottili queste qui ma offendono gravemente il signore d'accordo noi tutti quanti noi io dico papà io sono sacerdote insomma ma da noi stessi siamo il nulla se uno vede qualche cosa di buono o trae qualche cosa di buono dal ministero di un sacerdote di un vescovo di un religioso di una santa suora di un carismatico di un fondatore di movimenti ne ringrazio il signore d'accordo e stop niente di più niente di più attenzione a questa cosa qui anche perché poi questa cosa qui comporta cioè tutta quanta una serie di dinamiche psicologiche dentro le persone che sono assolutamente distruttive io ho imparato tante 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 cose dalla dall'esperienza è una forma come dire un pochino più bassa ma è sempre idolatria anche l'attaccamento verso verso le persone verso le persone le figure lo stesso spirituali la volontaria dipendenza psicologica d'accordo dai loro giudizi dai loro pareri addirittura dai loro gradimenti se tu fai una cosa io sono diventato molto molto restio su tante questioni quando qualcuno mi fa una domanda diretta mi chiedo un consiglio su una cosa evidentemente cioè se uno mi dice che faccio ho rapporti prematrimoniali o no non posso dirgli vada l'anti alzatissima e fai discernimento gli dico no c'è il sesto comandamento questo fa parte della legge di Dio ma quando esuliamo dalle cose che sono direttamente intrinsecamente bene o male in cui è chiaro che un sacerdote deve come dire dire chiaramente questo è bene e questo è male poi chiaramente tu c'è l'arbitrio e Dio rispetta le tue scelte ma questo è bene e questo è male quindi questo si fa e questo non si deve fare ma quando si esula da questo e questa è una cosa che ho imparato lo confesso ma tu non devi mai dire fai questo piuttosto che quest'altro mai anche se tu sei convinto quello sia il bene perché per due motivi primo perché la persona come dire immagazzina anche se involontariamente una forma di dipendenza e di sostituzione della figura del direttore spirituale del confessore del prete addirittura con Dio stesso questo non si deve fare non si deve permettere secondo è anche una forma altamente deresponsabilizzante della persona e che poi si ritorce contro lo stesso padre spirituale lo stesso confessore che è stato a questo gioco perché perché se tu su una cosa che non è di fede dai una certa indicazione se la persona poi è contenta che cosa fa o quanto è bravo Don Leonardo o Don Francesco o Don Nicola se la persona non fa male peste e corna è colpa di Don Leonardo capito quindi non è più la persona che è responsabile dei suoi gesti delle situazioni ma c'è lo scaricamento della responsabilità secondo problema terzo problema ancora più grande la persona non interiorizzerà il valore non lo interiorizza e anche su questo io non posso essere non posso fare esempi concreti perché persone a me vicine potrebbero capire tante cose e non va bene però le persone i valori come dire ripeto non direttamente e immediatamente connessi con l'intrinseco bene e male devono interiorizzarli come cosa propria cioè non si deve fare questa cosa perché è stata detta da sapete per esempio tutti quanti i marasmi che sono successi adesso con i discorsi del coronavirus le disposizioni ecclesiastiche le restrizioni alle celebrazioni i modi di accostarsi alla comunione sapete quanta gente dico io ho sempre dato ho spiegato alle persone la situazione che si è determinata le linee che sono state prese dalla gerarchia che vanno rispettate condivisibili non fa niente cioè chi governa si prende la responsabilità delle scelte che fa noi dobbiamo prenderne atto dobbiamo prenderne atto dopodiché dinanzi a questa realtà queste sono le possibili soluzioni 1 2 3 4 e 5 ti metti davanti al signore e vedi quello che il cuore ti detta d'accordo cioè perché perché questa qui è una cosa in cui la coscienza deve essere chiamata in causa come su tante altre questioni non direttamente e formalmente connesse a l'intrinsece bonum o l'intrinsece malum quindi attenzione a queste forme sottili di idolatria che sono diffuse d'accordo la stessa cosa accade col personaggio politico d'accordo cioè i grandi totalitarismi della della storia cioè quando adesso facciamo tutti quanti bravi insomma con il senno di poi come dire che a dire ah Hitler ah Mussolini ah Stalin sì ma quando questi questi ah Gheddafi Saddam Hussein Napoleone insomma no cioè col senno di poi siamo tutti bravi d'accordo ma quando quando questi personaggi stavano al potere ma c'è stavano oceani di folle che gli andavano dietro e che li esaltavano e e chi erano questi erano idolatri erano erano idolatri capito perché cioè uno un dittatore quindi uno che si esalta come una sorta di padre eterno in terra ma la stessa cosa è successo con gli imperatori romani cioè vedete quanto è diffusa questa cosa oh ma gli cristiani sono morti ammazzati per non piegare le ginocchia davanti all'imperatore se fate l'ufficio delle letture di domani mattina io lo anticipo la sera prima domani mattina ci sarà l'episodio dei tre giovani Anania Zaria e Misaele che Nabucodonosor fa un bel editto con la statua d'oro sua a cui tutti si devono prostrare per adorarla i megalomani sono all'ordine del giorno nel corso della storia e i tre giovani io non mi prosto davanti alla statua e con la presa e la schiaffa di dentro la fornace ardente ha sette volte tanto di potenza ma quelli sono usciti fuori illesi loro più questo quarto giovane che sicuramente era il nostro signore Gesù Cristo che si è messo a camminare vicino e che ci aveva il volto di un dio e Nabucodonosor alla fine si è messo sia benedetto il vostro dio che va tirato fuori fate quello che volete non dovete adorare più niente più nessuno insomma quanti ce ne sono stati nel corso della storia e tutti quanti dietro 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 come capite dietro questa idolatria c'è la sindrome del pecorone pecorone inteso in senso negativo Gesù ha detto voi siete mie pecore cioè che significa non pecoroni ma noi seguiamo fedelmente adoriamo e siamo e diamo retta a Dio solo d'accordo i governanti li rispettiamo le leggi giuste che fanno le osserviamo le leggi ingiuste che fanno non le osserviamo d'accordo o le combattiamo se sono da da combattere con i mezzi leciti per carità vi fa Dio insomma i cristiani non fanno rivolte armate non fanno rivoluzioni ma il nostro Dio sta nel cielo noi non andiamo quindi anche sono cose profondissime queste qui quando Dio dice l'antico testamento io sono un Dio geloso guarda che Dio è geloso come siamo gelosi noi cioè la gelosia per noi è un difetto insomma ma ti sta dicendo con un linguaggio diciamo così adatto antropomorfizzato è adatto adatto a un certo contesto culturale cioè guarda il tuo cuore deve essere solo mio tu non ti devi prostrare dinanzi a nessuno che non sia io strettamente connesso vedete quindi con la problematica dell'idolatria sta la risposta che diede Gesù al diavolo che ci introduce poi nell'aspetto positivo che magari adesso introduciamo perché siamo già quasi a 50 minuti dobbiamo andare verso la conclusione affrontiamo la prossima volta cioè l'adorazione che è dovuta a Dio solo a Dio solo il culto di latria abbiamo detto idolatria significa culto dato agli idoli cioè a qualcuno che Dio non è i soldi non sono Dio il sesso non è Dio il potere non è Dio le persone non sono Dio il santo non è Dio mi perdoni quanto la amo la Madonna non è Dio la Madonna va ipervenerata ma la Madonna vuole che nella sua eccellenza che è seconda a Dio sola come lei stessa fece sia glorificato anzitutto il Signore che l'ha fatta così bella che l'ha riempita di così tante grazie certo che che come dire lei è stata la numero uno insomma no e quindi è stata veramente il top ed è per questo che la veneriamo però c'è sempre quest'ordine allora vedete l'idolatria vuol dire culto dato a chi non è Dio altri per esempio come dire stanno dando il culto di Dio non è tanto difficile insomma individuare anche in giro sulla sulla scena personalità di questo genere e a se stessi il proprio io è il proprio Dio quindi si può dare il proprio culto di idolatria come dire ad una persona differente da noi ed è molto sottile quando questo culto viene dato a persona spirituale perché sembrerebbe essere come dire una cosa buona d'accordo dice questo è un uomo di Dio ma questo è un santo ma questo è una donna di poi i santi questo è un santo attenzione i processi di canonizzazione vengono fatti da santa madre chiesa dopo la morte di una persona perché fino a quando la persona sta in giro su pianeta terra ancora è tentabile ancora è soggetta al peccato ancora potrebbe cadere quindi fino alla fine non può essere canonizzato nessuno certo possiamo farci un'idea di chi è stato avanti insomma questo mi sembra un attuale mi sembra una persona mi sembra una persona santa mi sembra una persona che stia incamminata mi sembra una persona degna di fede mi sembra una persona che cerca di amare il Signore mi sembra una persona che cerca di vivere in grazia quindi sempre sempre cauti d'accordo sempre tranquilli preghiamo gli uni per gli altri e sappiamo che il diavolo non dorme d'accordo ci sono stati grandi esempi anche nel corso della storia della Chiesa di persone straordinarie non vorrei fare nomi anche perché in qualche volta l'ho fatto ma non mi piace però credetemi sulla parola insomma fatemi fare gli esempi concreti che purtroppo ci stanno cioè di persone che si sono come dire distinte su tante questioni e poi sono cadute sono cadute anche grossolanamente su certe perché il diavolo il suo lavoro lo fa e lo fa bene fino alla fine e quindi nessuno può ricevere attestati di santità prima che dimostri di essere stato in grado con l'aiuto della grazia di perseverare fino alla fine come diceva padre Pio la fede non è di chi bene comincia non è di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine un uomo si conosce veramente alla fine quindi qui sempre cautela quindi non idolatria ma a Dio e solo a Dio va dato il culto di latria questo è un fatto anzitutto anzitutto del cuore però come vedremo la prossima volta il fatto del cuore poi si esplica anche in atteggiamenti che sono esterni al cuore quindi in cose molto molto concrete in comportamenti in azioni in gesti che poi sono i gesti propri della virtù di religione che esternano sia nel nostro rapporto internossa tu per tu con il signore sia anche nei gesti pubblici di testimonianza che non sono fatti per essere notati d'accordo tipo il fariseo che prega stando in piedi nelle piazze no ma di cui non dobbiamo vergognarci adesso vedremo la prossima volta insomma le tentazioni sottili che ci stanno non dobbiamo vergognarci affatto di attestare il nostro essere felici di dare a Dio ciò che è di Dio di rendere a Dio il culto che gli è dovuto di adorarlo di dire Dio è Lui il mio Dio è Lui io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio di fronte a me e questo vale nel rapporto interpersonale con Lui ma vale anche nella nostra testimonianza pubblica cioè che le persone sappiano che Dio è il mio Dio non è ostentazione religiosa d'accordo il fanatismo è un altro discorso d'accordo è un altro discorso perché essere fanatici è un peccato ma dal giorno della nostra cresima quando siamo stati cresimati c'è stato messo l'olio sulla fronte e l'olio sulla fronte torniamo a San Tommaso da qui perché l'unzione della cresima si fa sulla fronte quella del battesimo si fa sulla testa perché perché siamo consacrati non è stata consacrata al senso tutti vengono tutte le mani perché quelle mani consacrano al cresimato viene un'altra la fronte perché perché questo diciamo simboleggia esteriormente quella grazia efficace che passa con la cresima di essere capaci di testimoniare senza arrossire la tua fede noi non dobbiamo assolutamente arrossire siccome la faccia è la stella della vergogna quando noi ci vergogniamo diventiamo tutti rossi tu cammini e vai a testa alta testa alta non vuol dire disprezzare il prossimo assumere atteggiamenti spocchiosi arroganti o superbi o di disprezzo del prossimo quindi questo no ma io non c'ho niente di cui vergognare che in certi paesi e vi assicuro che in certi paesi ancora così piccoli centri piccoli paesi un uomo che va a messa la domenica diventa la favola della barzelletta di tutto quanto il paese ma questa è un'aberrazione che può esistere soltanto perché stiamo in Italia il mio spirito battagliero e combattivo insomma ok essendo diventato un ministro di Dio e un sacerdote ha dovuto molto come dire calmarsi mi fa subito dire ma se io vivessi in quel paese fossi un uomo ci andrei apposta a messa la domenica cioè perché dico ma dico stiamo scherzando cioè io mi devo vergognare di andare a rendere a Dio il culto che gli ha dovuto dandogli un'ora del mio tempo alla settimana e magari non mi devo vergognare di averci una bocca come una cloaca o di bestemmiare o cose di questo genere d'accordo o di andare a vedere il filmetto che non si può vedere o roba del genere ma stiamo scherzando allora vedremo che la prossima volta nel dovere di adorare il Signore che è quindi idoli no ma Dio è il culto di latria così torneremo a questo benedetto primo comandamento perché amarlo e servirlo e adorarlo è tutt'una chiaro che il nostro il nostro culto al Signore non è il culto degli schiavi cioè noi non ci abbiamo cioè come altre religioni un Dio che ci vuole soggetti schiavi a fare gesti di umiliazione perché ti vuole dominare per un per un cristiano fare gesti esteriori anche umilissimi anche lo stare in ginocchio vedremo anche il pro stralsi non è assolutamente come dire un'attestazione di come dire mortificante come dire opprimente limitante schiavizzazione ma assolutamente ma è l'espressione come dire umana e quindi però certamente visibile percepibile di tutto di tutto quanto quell'immenso amore quell'immensa considerazione che sia nei confronti di nostro Signore che ci porta a fare questi e come il Signore ci ha detto chi dinanzi a lui si umilia è lui stesso segna a innalzarlo quindi non è che chi si umilia lui lo finisce domiglia e dice ah bravo via sottomesso non fa così nostro Signore ma il porci nella giusta posizione davanti a lui cioè dirgli semplicemente tu sei il tutto io sono nulla e tutto quello che sono e che ho e che faccio di buono viene solo da te è esattamente lo strumento per come dire per sbancare il paradiso per farsi per farsi arrivare da Dio tutte le grazie possibili e immaginabili perché quando non c'è pericolo ecco che la creatura si impazzisca e si vada a credere che le cose belle e sante vengono da lei e se ne vanti e se è super birka quindi così va dalla rovina Dio spalanca tutti quanti i rubinetti però prima a lui solo rendi culto come disse Gesù al diavolo e come tutti dobbiamo fare mandando il diavolo al diavolo perché il diavolo è il maestro del non voler rendere culto a Dio il diavolo non lo adora il Signore quindi tutti i non adoratori interiori o esteriori sappiano che loro malgrado forse non lo sanno ma purtroppo somigliano al diavolo ma questo sarà l'argomento se Dio vuole della prossima puntata una santa notte a tutti grazie ai numerosi figlioni che anche questa sera hanno seguito la diretta come sapete sta catechesi a breve sarà disponibile sia in podcast sia sul canale YouTube di nuovo una santa notte a tutti alla prossima ade maria